Con un taglio dei parlamentari di oltre il 33% delle posizioni è normale che ci sia qualcuno che resta fuori, qualcuno che entra e che magari qualche delusione in più rispetto all'altra volta ci sia. Ha spiegato così il commissario della Lega in Veneto la scelta dei 24 candidati alla politica del 25 settembre presentati oggi ufficialmente al K3. Non stati i sondaggi diano il centrodestra in netto vantaggio, l'atmosfera all'interno del carroccio non è certo trionfalistica come in passato. Pesano un poco il dato di Fratelli d'Italia che potrebbe diventare il primo partito in regione. Una concorrenza giusta all'interno di una coalizione, quindi un'alleanza, speriamo che tutti abbiano il giusto successo, poi chiaramente noi della Lega speriamo di riuscire ad avere un voto in più. Non gioca certo a favore il fatto che la Lega si sia fatta scippare un nome importante come l'ex magistrato Carlo Nordio. Ha collaborato molto anche con noi sul referendum per la giustizia, devo dire la verità un po' dispiace che si sia candidato con Fratelli d'Italia perché lo avremmo voluto sicuramente anche fra le nostre file se ci fosse stata la disponibilità. E quindi le priorità certamente divergono tra Lega e Fratelli d'Italia con l'autonomia del Veneto a scalare dopo la crisi energetica che peraltro preoccupa in un po' con la regione. Noi abbiamo due guai, il primo è che mettiamo a pane d'acqua famiglie e imprese se non interveniamo e quindi io spero che il governo intervenga velocemente. Il secondo guaio è che se non accadrà questo noi avremo aziende meno competitive dei loro competitors a livello europeo che avranno magari dei paesi pensati ai francesi che hanno pensato al loro futuro. Appoggio quindi al governo Draghi perché magari copi la Francia nel camerare il prezzo del gas ma subito dopo deve venire l'autonomia. Armonia in coalizione da raggiungere mentre la Lega cercherà di aggiustare la propria. Non sono passate inosservate infatti le assenze del padre nobile Giampaolo Gobbo che abita a 50 metri dal K3. Così come l'ex segretario Veneto Tony D'Arè, il sindaco di Treviso Mario Conte ma soprattutto Franco Manzato. C'è chi dice in polemica con la collocazione all'ultimo posto nel collegio proporzionale Veneto 1 con il suo commissario provinciale al secondo posto. Gianangelo Boff, ma lei in una nostra intervista aveva detto che non aveva nessuna intenzione di andare all'estero riferendosi proprio a Roma e al Parlamento. Adesso cosa fa? Beh diciamo che il fatto di andare all'estero lo considero ancora come lo ritenevo in allora, cioè non avevo nessuna intenzione. Poi è arrivata la richiesta da parte dei vertici del partito di mettermi a disposizione per questo nuovo incarico, richiesta al quale come ogni soldato della Lega si risponde di sì. Grazie a tutti.